live dal lago resia alle mie spalle un enorme nuvola temporalesca l'acqua direi che sta per finire qui in fondo direi che c'è vento vedi eccoli ancora più in fondo c'è la neve questo è il lago resia dicevo eccone una panoramica ma l'attrazione più importante di questo lago è questo campanile questo campanile esattamente in mezzo al lago considerate che qua d'inverno è completamente ghiacciato quindi si può raggiungere a piedi il campanile stesso e adesso aspetto un attimo che spiova un secondo per provare a fare con il drone anzi per fare con il drone altro che a provare per fare con il drone un giro così intorno per farvi vedere questo lago come dire da un punto di vista diverso dal dal solito intanto io voglio chiare a sole vabbè ma qui è il caso di mettersi più che altro il cappuccio proprio perché sta iniziando eccola la nuvola temporalesca viene sempre più verso di qua eh sì adesso è a nuvoloni proprio cioè goccioloni ah comunque sono finito anche in mezzo al fango me ne so sbagliato finito in mezzo al fango vabbè vi faccio vedere allora il come si chiama qua il campanile dall'alto un abbraccio ciao come si chiama il campanile dall'alto un abbraccio spazio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti